Ciao, buongiorno, ben ritrovati, dovremmo come sempre essere connessi, aspetto qualche feedback dai primi collegati. È da un po', è da poco più di un mese che non ci vediamo, ci siamo visti l'ultima volta alla Fiera di Monaco, all'Inter Solar, abbiamo fatto un intervento dallo stand, sì c'è Roberto, quindi siamo connessi, ciao Roberto. Dicevo, ci siamo visti l'ultima volta dall'Inter Solar, la Fiera internazionale, la Fiera europea per le energie rinnovabili, abbiamo fatto il nostro intervento dal MaxiStand della Grovat e a conclusione dei lavori di quei tre giorni dobbiamo dire che è andata molto bene, non solo per Grovat ma in generale come evento fieristico è andata molto bene, ha conferma che il settore delle energie rinnovabili è in fortissima crescita e di fortissimo interesse a livello senz'altro europeo ma mondiale. Quindi un grazie ancora per chi ci ha seguito la scorsa volta e per chi chiaramente ci seguirà in questa puntata. Le nostre puntate live, come avrete notato, ultimamente cercano di essere concentrate su un evento particolare, la scorsa volta era l'Inter Solar, la volta prima all'evento al chilometro rosso di Bergamo. Oggi l'argomento c'è ed è di tutto rispetto, un argomento importante è il contributo, il bando della regione Veneto per l'installazione dei sistemi di accumulo. Intanto saluto chiaramente tutti i connessi da Martino, Alessandro e Umberto e quelli che arrivano. Dicevo, cerchiamo di concentrare questi eventi perché se è vero che da un anno abbiamo creato formazione, informazione, abbiamo dato visione e prospettiva agli addetti ai lavori e ai non addetti ai lavori su quello che è il mondo del fotovoltaico ma con un focus molto attento sui sistemi di accumulo finalmente si cominciano a concretizzare anche da un punto di vista ufficiale della pubblica amministrazione con questa pubblicazione, questi bandi per l'installazione dei sistemi di accumulo. È un segno importantissimo, un segno che conferma ciò che noi vi raccontiamo da molto tempo, cioè la tendenza di questo mercato che è in fortissima crescita anche nel nostro paese. Vi do un dato orientativo, sembra che quest'anno confermeremo, i numeri ci sono già, oltre il raddoppio dell'installato del 2018 e dello scorso anno in termini fotovoltaici senza altro, di impianti fotovoltaici ma anche di sistemi di accumulo. Quindi una crescita che ormai è scritta, la strada è tracciata per i prossimi anni. Tornando però all'argomento principale di oggi, cioè il bando uscito circa una settimana fa sull'installazione dei sistemi di accumulo. Devo sottolineare come la pubblica amministrazione si sia avvicinata e sia molto attenta a questo settore, a quella strada che noi abbiamo narrato qualche mese fa abbondante, cioè la strada della futura generazione elettrica distribuita, nella quale tutti noi siamo, diventeremo senz'altro dei consumatori di energia pulita ma anche dei produttori di energia pulita verso la rete. E in quest'ottica io mi permetto di fare un ringraziamento, anche se personalmente non lo conosco, all'assessore allo sviluppo economico e alle energie della regione Veneto che è Roberto Marcato. Lo ringrazio perché contribuisce nel nostro settore, nella nostra missione lavorativa ad allargare gli orizzonti di questo ambito, in particolare in questo caso dei sistemi di accumulo. Entriamo quindi nel merito di questo bando a fondo perduto, un contributo a fondo perduto per chi installa dei sistemi o ha installato, lo vedremo, dei sistemi di accumulo sugli impianti fotovoltaici. Allora, la prima cosa che c'è da sottolineare, cercheremo di sviscerare il bando che non è poi così complesso, però diamo degli strumenti sia all'utente finale che al professionista, allo studio, all'installatore, al distributore, per poter essere più fruibile l'accesso a tutta una serie di dati tecnici e non che servono per compilare, vedrete, la richiesta di contributo. Innanzitutto, a chi è riservato? È riservato ai cittadini residenti in Veneto, quindi tutti i cittadini privati residenti in Veneto che o intendono fare un impianto fotovoltaico con accumulo o hanno realizzato nel 2019, quindi da primo gennaio 2019, un sistema di accumulo integrato ad un fotovoltaico esistente, possono concorrere a questo contributo regionale. Una parentesi tecnica, il limite sono i 20 kilowatt di impianto fotovoltaico, però non rappresentano assolutamente un problema perché vedrete che il 99% delle domande saranno legate su taglie che andranno dai 3 kilowatt ai 10, 12, 15 kilowatt, quindi il residenziale sotto tutte le sue forme, anche il grosso residenziale, ma comunque in queste taglie. Abbiamo detto che possono appunto accedervi i cittadini privati, dovranno iscriversi e come funziona. Allora, ci sarà una piccola parte in cui vi farò vedere il nostro contributo come Grovat Italia alla compilazione di tutti i documenti necessari per accreditarsi e fare la domanda tecnica al bando. Innanzitutto è solo online e quindi si accede attraverso il sito della regione Veneto o attraverso il nostro portale grovat.it e da lì c'è una prima parte di accreditamento, quindi una registrazione del nome e cognome con documento di identità e poi ci sarà una seconda parte che invece sarà la domanda vera e propria con gli allegati tecnici, i preventivi e quello che vedremo fra un attimo. In questi giorni ci sono arrivate, come potete immaginare, una valanga di telefonate, di mail, di domande. Io ho cercato di riassumere almeno due che sono quelle che fanno pensare al cittadino, parto, lo faccio, mi provo ad iscrivere, cerco di ottenere il contributo oppure no. La prima è posso cumulare la detrazione fiscale a cui avrei diritto per ristrutturazione edilizia piuttosto che peraltro che è quella del 50% in 10 anni all'eventuale contributo del bando che potrei ottenere? La risposta è sì, posso cumularla. E se ho un impianto esistente, per esempio realizzato attorno a cavallo degli anni 2010-2012 che godevano dell'incentivo dello Stato, i famosi conti energia, posso comunque concorrere al bando della regione Veneto? La risposta è sì, c'è solo limite, dal secondo al quinto conto energia viene escluso il primo, ma anche in altri aspetti viene escluso il primo conto energia che comunque ricordate riguardava una manciata di impianti in Italia realizzati a cavallo del 2005-2006. Ho stampato per darvi anche un memorandum quello che ho appena detto, cioè è cumulabile? Sì, posso cumularlo alla dettazione fiscale del 50% o a eventuali altre agevolazioni fiscali regionali del Veneto in questo caso che posso aver ottenuto per vari motivi. Ed è installabile sugli impianti in conto energia dal secondo al quinto. Bene, questo registratevelo perché è il primo passo per decidere se lo voglio fare. Intanto saluto Grovat, Franco, Massimo eccetera. Quanto vale il contributo del bando della regione Veneto? Quanto può valere nel momento in cui lo dovessi ottenere? Allora, il contributo potrà valere fino ad un massimale, ad un massimo del 50% delle spese tra acquisto e installazione che andrò o sono andato a sostenere per l'acquisto appunto del sistema di accumulo e comunque non oltre 3.000 euro. L'esempio più stupido che si può fare è spendo 6.000 euro e per una serie di aspetti tecnici posso entrare al contributo. Quanto ottengo? Bene, ottengo 3.000. Ne spendo 4.000 di euro? Bene, ottengo al massimo il 50%, quindi su 4.000 potrò ottenere al massimo 2.000 euro. Per darvi una indicazione a spot ma per farvi capire un po' come è strutturato. Quanto è il monte messo a disposizione della regione Veneto? Sono 2 milioni di euro che sono una cifra senz'altro importante che darà uno sviluppo e un movimento ai sistemi di accumulo che già stanno andando per il suo canale. Ricordo che Grovat ormai è una delle aziende, uno dei sistemi di accumulo più, tra l'altro, soluzioni tecniche più vendute in Italia, una delle più vendute in assoluto in Italia. Ma per entrare a provare, dicevo prima, a concorrere a questo contributo della regione Veneto, cosa bisogna fare? Allora, l'ho detto prima, è tutto online, quindi attraverso il portale, il sito della regione Veneto si accede ad una serie di link di pagine per potersi accreditare. Allora, c'è una prima fase che è partita il 24, quindi lunedì scorso, e dura fino al 31 luglio, se non sbaglio, ed è una fase di accreditamento, cioè il privato cittadino si registra depositando un documento di identità scannerizzato, indicando un indirizzo email normale o PEC nel caso in cui ne sia possessore, e si accredita. Poi dall'8 luglio, invece, dalle 9 del mattino dell'8 luglio, si apre una finestra temporale che andrà fino al 31 di luglio per registrare tecnicamente proprio la propria proposta, il proprio impianto. Dalle prime informazioni che stiamo avendo, l'8 luglio si tradurrà probabilmente in una sorta di click day, perché sono davvero tantissime le persone che si stanno registrando da sole o con l'aiuto di qualche consulente, di qualche installatore, di qualche buon ufficio commerciale del distributore che proprio ieri mi diceva è oberato dalle richieste e sta sparando fuori preventivi e quotazioni a manetta. Quindi dall'8 luglio comunque ci sarà questa possibilità di registrare il proprio impianto. Proprio impianto che potrà concorrere all'ottenimento del contributo secondo una serie di regole messe dalla regione per l'appunto, dall'ufficio dello sviluppo dell'energia, e che, devo dirvi, sono finalmente regole serie, eticamente serie. Perché faccio solo una piccolissima parentesi, poi torniamo a parlare del bando, ma ci stiamo comunque parlando. Qualche mese fa, molti mesi fa, abbiamo fatto alcune puntate sul numero dei cicli delle batterie, sul dato EOL, questo sconosciuto, il dato quindi di energia residua, e qualcuno ci diede dei pazzi, ci diede dei fori di testa perché voi dovete parlare solo di cicli, cosa c'entra l'EOL. Ebbene, finalmente il pool dei tecnici della regione ha deciso di mettere un po' tutti a tacere e soprattutto di mettere un po' tutti sulla stessa linea. Ovvero, hanno detto, cari signori, adesso vi spiego come poter indicare il grado di efficienza del sistema di accumulo che state andando a pensare di acquistare. Però ricordatevi che a me, di quello che dichiarano i vari produttori dei cicli, tanti, pochi, scarica o meno, mi interessa fino a un certo punto, voglio che tutto questo poi sia riparametrato per tutti ad un dato unico, ovvero al dato di capacità residua a fine vita dichiarata dal produttore della batteria. Cioè, se uno dichiarava che aveva N.000 cicli e poi non diceva che questo N.000 cicli era quando la batteria non andava più su del 30-40%, vabbè, però ne stava veramente poca. Viceversa, uno ne dichiarava molti meno, però la sua batteria andava a fine vita molto più su dell'altra e allora forse qualcosa non tornava. Ebbene, ha detto, per tutti il dato di energia residua dovrà essere pari al 60% per tutti. Eccovi la formula, adesso ve la faccio intravedere. Fate quello che dovete fare, in realtà non dovete fare i calcoli, ci penseranno gli uffici tecnici della regione, ma dovrete inserire certi dati che vengono forniti, in questo caso da Grovat Italia, relativamente a tutti i propri sistemi di accumulo. E vedrete come schizzeranno, a molti scenderanno le grandi caratteristiche tecniche dichiarate, per altre schizzeranno e vedrete come Grovat si confermerà anche in questo caso, probabilmente uno dei sistemi più efficienti in termini di capacità utilizzabile legata al costo, perché la regione ha messo anche una formula che lega la capacità reale al costo che tu, utente finale, stai andando a sostenere per far sì che questo sistema di accumulo sia il più efficiente possibile nei tuoi confronti, anche per un rientro economico del tuo investimento. Allora, detto tutto questo, spero di non avervi tediato troppo, provo a portarvi sulla home page di Grovat per farvi vedere il servizio che abbiamo messo a disposizione per tutti coloro che vogliono fruirne dagli uffici commerciali, dicevo, agli studi di progettazione, agli installatori, per agevolare poi i loro clienti finali per poter iscriversi. Allora, provo a girare la telecamera, dovrei riuscirci così, sì, ce l'ho fatta, benissimo, e posiziono qua per darvi una carellata senza tediarvi troppo. Allora, questa è la pagina di Grovat, la home page. Bene, scendendo in basso troverete una sezione dedicata, eccola qui, alla guida, alla compilazione del bando 2019 per la regione Veneto. Molto semplicemente entrate sul pulsante e vi si apre, se riesco ad entrarci, vi si apre la pagina relativa alla guida. E qui c'è tutta una serie di, non solo spiegazioni che poi sono riprese ovviamente dal portale, dal sito della regione Veneto, ma ci sono anche dei link che permettono di poter, in maniera molto più fruibile, entrare su quelli che sono poi gli allegati obbligatori da presentare. Qualche punto importante prima di entrare nel bando? Beh, innanzitutto apriamolo, lo mettiamo là e così, e anche questo lo mettiamo in un'altra finestra. Allora, abbiamo detto, il 50% al massimo di copertura delle spese è comunque fino a un massimale di 3.000 euro e fino a qua ci siamo capiti. È cumulabile, questo l'abbiamo già detto, è cumulabile con la detrazione eventualmente fiscale e, aggiungo io, ai conti energia. Chi può presentare la domanda sono tutti i privati cittadini residenti chiaramente nel Veneto e che hanno installato un sistema di cumulo dal 1 gennaio 2019 evidentemente fino ad oggi oppure che vogliono installarlo da oggi fino al 13 dicembre 2019. È chiaro che queste persone che devono ancora installarlo, così come quelle che l'hanno installato, anzi no, quelle che devono ancora installarlo dovranno produrre entro l'8 luglio tutta una serie di preventivi dei loro installatori per poter inserire la richiesta di contributo presso il sito della regione Veneto. Le fasi sono abbastanza semplici, l'abbiamo detto prima, dal 24 giugno, cioè dal lunedì scorso al 25, scusate luglio, non il 31, posso accreditarmi, posso iscrivermi, però è anche vero che dall'8 luglio poi parte la parte invece di presentazione della domanda, io aggiungo tecnica, cioè quella con tutti gli allegati. È naturale, secondo me quello che succederà, cioè all'8 luglio, visti i numeri che sto ascoltando, si andrà ad esaurimento delle risorse dei 2 milioni di euro e quindi probabilmente dopo non servirà nemmeno più iscriversi, ma stiamo a vedere, stiamo a vedere chiaramente. Allora, qua entriamo in una parte che sembra complicata ma in realtà non lo è molto, cioè i dati richiesti sono la copia del documento, poi ve lo leggete, la copia del preventivo o fattura evidentemente per chi lo ha già fatto del sistema di accumulo, chiaramente deve essere divisa per acquisto materiale e quota installativa, perché vedrete dopo, vi viene riconosciuto in parti diverse una cosa è l'acquisto del materiale fisico che andrà a contribuire all'efficienza del sistema, il costo, e una cosa diversa è invece la quota di installazione dell'installatore che potrà essere contribuita fino al 50% e comunque non oltre i 300 euro di contributo, poi se essa è 5, 6, 700 euro che sono assolutamente cifre ragionevoli, ci sarà comunque la quota fino a 300 euro che circa rappresenterà il 50%. Una dichiarazione dell'installazione dell'allegato 2 che lo vediamo dopo, copia del documento di identità dell'installatore che deve contenere alcune nozioni tecniche. Vedete, nozioni tecniche del tipo che tipologia stai usando, che profondità di scarica di odi stai usando, porca miseria che casino, che energia nominale e espressa in kilowattora stai usando, mamma mia, qua veramente mi cadono i capelli. E avanti, numero di cicli di vita dichiarati dal produttore specificando la profondità di scarica, bene, sembra tutto molto complesso, ma lo sarebbe se Grovat in questo caso non vi mettesse a disposizione uno strumento che vi dà esattamente già tutti i dati semplicemente da precompilare nel modulo, nell'allegato. Quindi non dovete fare nulla, anche perché vi faccio saltare un secondo di palo in frasca, guardate, questo è il bando, ve lo allargo un attimo, per darvi, ed è accessibile, ripeto, è leggibile da voi, per darvi un'idea dovremmo, per assurdo, noi cittadini privati, andare a un certo punto a calcolare quei dati che avete visto poco fa, eccoli qua, applicando appunto la formula che mi calcola la profondità di scarica o meglio l'efficienza parificata al costo dell'impianto espressa in kilowattora, sono questi degli esempi, ecco diventerebbe un po' complicato, ma in effetti l'obiettivo del legislatore, in questo caso non è certo quello di complicare, questi sono degli esempi più per gli addetti ai lavori, se volete, ma che sono molto molto semplici perché andando a sfruttare, vedete salto di nuovo sul nostro portale, andando a sfruttare la documentazione che vi viene messa a disposizione, eccola qua, apriamo l'ibrido per esempio, ebbene avete, allargo un po' la finestra, avete già tutto precompilato perché notate come riportiamo esattamente le diciture presenti negli allegati con tutti i valori già riparametrati a quella che vi dicevo prima, cioè la capacità residua del sistema di accumulo eguagliata e parificata al 60% per noi e per tutti, ecco il dato importante. Quindi sul portale Grovat trovate anche questi documenti, sia per la serie SPH, cioè l'inverter ibrido, o per la serie SPA, ovvero il sistema di accumulo universale installabile in tutti gli impianti esistenti e poi sotto tutta una serie di allegati che sono la dichiarazione di conformità, la dichiarazione CEI 021 dei sistemi, le garanzie, le marcature CE che in realtà non sono, lo sottolineo come mi ha specificato bene questa mattina il nostro ingegner Fori, non sono da allegare fisicamente agli allegati ma sono semplicemente da utilizzare nel senso di dire sì c'è, l'ho verificato, quindi posso scrivere che c'è. Su questa sezione invece trovate i vari allegati della regione che dovranno essere compilati sia nella sua parte di accreditamento iniziale sia poi dall'8 luglio per la presentazione della domanda tecnica. Vedete, dovreste trovare a breve la parte che vi dicevo relativa agli aspetti tecnici del sistema di accumulo, quindi vedete la tipologia, è un sistema on grid, l'energia normale è espressa in kilowattora e lo trovate abbiamo detto sulla pagina, sulla pagina, eccola qua, espressa già qua la E, la DOD, quindi le trovate veramente già tutte, ho perso la pagina, ero su questa, ero su questa, eccomi qua. Quindi trovate la DOD, trovate la ND, trovate già tutto. Ecco che questa pagina dedicata di Grovat ha voluto e vuole pesantemente agevolare il lavoro di tutte le persone che andranno a presentare questo importante documento per ottenere il fondo. Un aspetto importante, torno da noi tanto qui poi avete capito, anzi vi faccio anche vedere, permettetemi che torno assieme a voi, eccoci qua, posiziono la telecamera, ci dovremmo essere. Vi faccio solo presente qual è la pagina di Grovat che è esattamente questa, è scritto giusto? È scritto così, eccola qua, grovat.it, quindi alla pagina grovat.it trovate esattamente in fondo tutto il link per essere guidati passo a passo alla compilazione del bando. Un'ultima o quasi nota tecnica, ma come definiscono quanti soldi fondamentalmente darmi? Intelligentemente l'hanno diviso in due, A e B. Sostanzialmente la parte A riguarda quello che ci siamo detti un attimo fa, cioè il grado di efficienza del sistema che vado a mettere, ovvero tiene in considerazione quanto posso scaricare ogni sacrosanto giorno la mia batteria, ovvero il famoso DOD o Deep of Discharge, quindi fatto 100 la capacità, quanto posso sfruttarne? Le nostre posso arrivare al 90%, 90%, altre possono essere il 70, l'80, le batterie al piombo il 50, se non addirittura il 30, quindi 90%. Poi tiene in considerazione nelle formule che verranno gestite chiaramente dagli uffici tecnici della regione, il numero di cicli con la capacità residua a fine vita del 60% per tutti e poi un dato importante, il costo. Perché il costo che viene riparametrato poi ai kilowattura di reale efficienza che risultano dalle formule? Perché se non ci fosse stato il costo avremmo trovato degli impianti che potevano magari ottenere qualche euro in più, fino a un massimale, lo ricordo, di 3.000 euro, ma che per l'utente finale non saranno e non sarebbero dei veri affari, cioè non gli darebbero l'opportunità di avere un rientro economico dell'investimento con il risparmio che avrà in bolletta di questo sistema. Un rientro ragionevole intendo, perché certo non posso pensare di installare oggi un sistema di accumulo e rientrare in 15 anni, francamente sarebbe un investimento da non fare. Un rientro ragionevole, ragionevole può voler dire oscillare tra i 4, i 5, i 6 anni, sono rientri ragionevoli nella quota di risparmio. La seconda lettera, abbiamo detto A e B contribuiscono chiaramente fra loro assieme a dare una sorta di coefficiente a quanti soldi mi verranno riconosciuti sul mio pacchetto, sul mio impianto, riguarda la parte di manodopera. Manodopera che servirà all'installatore per installare il sistema, c'è anche una voce che riguarda l'eventuale contatore secondario del gestore di Enel, se necessario, quindi quella la si lascia da parte, se serve viene inserita, se non serve non viene inserita. E anche qui in maniera intelligente vi do, cari signori installatori, vi riconosco come contributo al vostro cliente finale fino intanto ad un massimo del 50% e fino a qua sarebbe stato bello perché sai cosa ti dico? Ti sparo la 1500 euro di manodopera, me ne dai se no, fino a un massimale di 300 euro. Quindi è inutile che il cliente si ritrovi con preventivi fatti a 2000 euro di installazione, comunque te ne do 300. Tra l'altro dovrete dimostrare una volta realizzato l'impianto i pagamenti. Quindi una volta realizzato l'impianto, una volta chiaramente che avete ottenuto l'accreditamento e l'ok al bando, dovrete poi nei mesi successivi quando andate a realizzare l'impianto entrare sul portale, sempre lo stesso portale della regione, il SIU, a dimostrare i pagamenti avvenuti. Quindi non si possono fare cose diverse. Ed è stato un A più B, per l'appunto, perfetto perché darà modo anche a noi produttori, in particolare a noi Grovat, di dimostrare come il sistema di accumulo con un'efficienza assolutamente buona nel mercato, assolutamente allineata se non talvolta migliore, ma con una incidenza di valore molto più vantaggiosa rispetto a tantissimi altri nostri competitor, porterà ad ottenere i gradi di efficienza in questo bando e nei prossimi bandi che verranno decisamente più alta di molti 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 altri. Ecco perché siamo oberati di richieste per l'installazione del sistema. Perché in maniera intelligente vogliamo far sì che l'utente finale, con tutti i passaggi del caso, chiaramente la distribuzione, l'installatore che deve avere il suo guadagno e la sua installazione a regola d'arte, ma dovrà far sì di salvaguardare l'utente finale che deve fare un investimento, godere di una quota a fondo perduto se riesce ad ottenerla, oltre alla detrazione l'abbiamo detto, ma deve averne un rientro economico serio e in un tempo più che ragionevole. Altrimenti non si è fatto altro che, scusate il termine, risputtanare un settore che si è ripreso e che finalmente ha un suo trend serio come molti molti altri mercati, se non chiaramente molto di più. Io non so se ho dimenticato onestamente qualcosa. Ci sono poi citate e riportate le modalità di erogazione entro il 13 dicembre, bisogna aver depositato tutti i documenti dell'impianto fatto per ottenere poi l'erogazione sul proprio IBAN della quota. Non si possono apportare delle modifiche dopo aver ottenuto l'ok al bando sul preventivo, certamente se il preventivo è in ribasso ci sarà una rimodulazione del contributo, se è in rialzo no, evidentemente. Direi che non mi sono dimenticato altro, almeno così credo. Vi invito per qualsiasi richiesta di consulenza legata al bando o senz'altro ai nostri prodotti di entrare sul sito Grovat e contattare i numeri che sono riportati sulla home page degli uffici di Perugia e di Roma l'ingegner Pierluigi Fori che con il suo staff è sempre molto disponibile. Noi siamo qui, siamo pronti, i nostri sistemi sono comunque in vendita quotidiana, lo ricordo sia quelli per impianti nuovi sia quelli per impianti retrofit. Il sistema S.P.A. è universale per qualsiasi benedetto impianto che mi ritrovi esistente. Vi ringrazio, siete stati in molti, ho visto da Franco a tutti, vi ringrazio tutti e vi vedo ancora molti connessi. Vi do appuntamento fra qualche settimana per un altro argomento importante. Ringrazio tutti della pazienza, vi auguro buona energia pulita a tutti e ciao a presto da Cristian. Ciao!